Che bello, la ripresa, ma sai che io mi rimango sconvolto quando mi sono visto ripreso mentre disegnavo, perché vedo fare questi segni e non so che cosa siano, cioè non avendo la, non so cosa va a finire a essere la cosa. Le poche volte che mi sono visto sono rimasto malissimo. Grazie. 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 Grazie.